Un caro saluto da Diego Fusaro. Ebbene sì, il giorno è arrivato. Quale giorno? Quello con cui il governo italiano della destra blu etneoliberale di Giorgia Meloni, atlantista e filobancaria, europeista e nemica dell'interesse nazionale, ha finalmente, dal suo punto di vista, strappato gli accordi della via della seta. Quegli accordi che, a mio giudizio, in maniera ottima aveva avviato il governo gialloverde, che per inciso è stato, a mio giudizio, il miglior governo che l'Italia abbia avuto negli ultimi 30 anni, ebbene gli accordi con Pechino sono ora stati trasformati in carta straccia dal governo della destra blu etneoliberale, il quale si vanta pure, naturalmente, pensa di aver compiuto un grande gesto di sovranità stracciando gli accordi con Pechino e fingendo di non sapere che in questa maniera Roma sarà ancora più schiava di Washington di quanto già non fosse, perché questo poi è l'aspetto pittoresco di questo governo comico, ridicolo, nelle sue movenze e nel suo nepotismo, nelle sue scelte totalmente opposte a ogni spirito di patriottismo, credo che questo sia il governo più subalterno in assoluto a Washington e ai mercati. L'aspetto tragicomico è che pensa di essere un governo patriottico proprio quando ogni giorno di più rende l'Italia asservita a Washington. Tra l'altro gli accordi con la Cina che rendevano possibile all'Italia fare qualche scambio, ottenere qualche vantaggio dalla Cina, mentre per ora è la Cina soltanto che ottiene vantaggi dall'Italia, dato che siamo letteralmente invasi di marche, prodotti, cinesi, con la via della seta, se non altro l'impresa italiana poteva vendere il made in Italy in Cina. Voi direte, interesserà pochissimi in Cina, magari all'1%, sì, ma l'1% di miliardi che sono, sono comunque numeri non trascurabili. Chiusa la parentesi, il governo della destra blu etnia liberale ha la bava alla bocca quando parla della Cina, perché l'abbina una dittatura comunista secondo lo storytelling neoliberale, squisitamente e orribilmente neoliberale. Ora pensa di aver compiuto un grande gesto patriota, quando in realtà si tratta, ripeto, semplicemente del rinsaldare le catene che ci legano a Washington. Altro che governo di patrioti, quello di questo governo è un patriottismo di carta pesta e di cartone.